Continua la mobilitazione dei lavoratori dell'Euralumina. Dopo le iniziative dei giorni scorsi, gli operai sono tornati questa mattina a Cagliari per un nuovo presidio davanti all'assessorato regionale dell'ambiente. Troppi i ritardi accumulati nell'iter per la ripresa produttiva. Portovesme SRL è a rischio l'attività produttiva. Le organizzazioni sindacali lanciano l'allarme in vista della scadenza del regime e della superinterrompibilità. Le segreterie fanno appello alla regione per stimolare il governo sulle politiche energetiche. Agite col cuore caldo ma con la mente fredda. E' questo l'appello lanciato da Don Giorgio, parroco di San Pio X di Iglesias, che domenica scorsa è stato vittima di un'estorsione. Porto di Bugerro, un'occasione persa. Ancora nessun'opera per la messa in sicurezza dello scalo. Così si è espresso Gianluigi Rubio, di area popolare, intervenuto sul porto di Bugerro attraverso un'interrogazione. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Canale 40. Continua la mobilitazione dei lavoratori Euralumina. Come già annunciato dopo l'iniziativa del 28 luglio e del 1 e 2 settembre, gli operai sono tornati questa mattina a Cagliari per un nuovo e rumoroso presidio. Il servizio. Continua la mobilitazione dei lavoratori dell'Euralumina. Come già annunciato dopo le iniziative del 28 luglio e del 1 e 2 settembre, gli operai sono tornati stamattina a Cagliari per un nuovo e rumoroso presidio davanti all'assessorato regionale dell'ambiente in Via Roma. Il sitting di oggi, con tanto di trombette e caschetti battuti in terra, si svolge in occasione della riunione tecnica in programma alle 11 tra assessorato all'ambiente, ex provincia di Carboniglesias e i tecnici consulenti dell'Euralumina per la verifica preliminare della documentazione relativa al procedimento autorizzativo che dovrebbe consentire il riavvio della fabbrica. I lavoratori esprimono e ribadiscono a gran voce la loro forte preoccupazione per i ritardi accumulati nell'iter per la ripresa produttiva e sollecitano tempi brevi e certi per dare gambe al nuovo piano industriale che prevede la ripresa produttiva del primo anello della filiera dell'alluminio, investimenti per 185 milioni di euro e l'impiego di oltre 200 addetti degli appalti per la realizzazione degli impianti e 357 lavoratori diretti. Porto Vesma SRL a rischio, l'attività produttiva. Le segreterie territoriali CGL, CISL e UIL lanciano l'allarme in un comunicato unitario e fanno appello alla regione. La crisi internazionale che ha determinato il crollo del prezzo di metalli e il problema sul costo dell'energia mettono a rischio l'attività della Porto Vesma SRL. A lanciare l'allarme in un comunicato unitario sono le segreterie territoriali Filcem CGL, Femca CISL e Wiltec Wil che alla scadenza dei termini del regime della superinterrompibilità sistema col quale l'azienda accetta la disconnessione in cambio di una riduzione della tarifa fanno appello alle istituzioni, in particolare alla regione Sardegna per stimolare il governo nazionale a trovare una soluzione ed evitare di arrivare all'ultimo giorno utile per prendere una decisione in favore del rilancio industriale. C'è il rischio di una decisione negativa da parte della Glencore titolare dello stabilimento della Porto Vesma SRL sulla continuità produttiva alla luce di una mancata risoluzione del problema del costo dell'energia che nei giorni scorsi è stato affrontato in una riunione tra le segreterie e la RSU di fabbrica. Abbiamo necessità, sottolineano le segreterie territoriali di un segnale di interesse sostanziale ad iniziare dall'assessorato regionale all'industria e alla presidenza della Giunta. E sempre sul tema del lavoro e dell'industria continuano le iniziative anche per l'avvertenza ex Alcoa. Da questa mattina una delegazione sindacale insieme alle RSU sono a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere un incontro con i rappresentanti del governo affinché dalla Commissione Europea arrivi in tempi celeri una risposta definitiva sulle politiche energetiche proposte dal governo per garantire continuità produttiva allo stabilimento di alluminio primario di Portovesme. Ci spostiamo adesso ad Iglesias dove il parroco della chiesa di San Pio X è stato vittima di una truffa domenica scorsa. Don Giorgio Foiz non è riuscito a restare indifferente davanti alla tragica storia raccontata telefonicamente da un sedicente fedele e padre di famiglia inscenata ad hoc esclusivamente per estorcere dei soldi al povero parroco. Sentiamo il servizio. Don Giorgio Foiz, parroco di Iglesias è stato truffato proprio questo weekend da un'organizzazione criminale che gli ha chiesto di accreditare su un conto post-pay una somma di denaro. Come mai? Sì, domenica pomeriggio verso le ore 14 ricevo una chiamata al numero dell'ufficio di questa persona identificata come Emanuele Russo di Iglesias, abitante in Via Roma disperata perché ha avuto la notizia dalla polizia stradale che la sua bimba di 4 anni insieme alla moglie in vacanza in continente hanno avuto un gravissimo incidente dove la stessa bimba ha perso la vita. Mi comunica piangendo che era all'aeroporto per lavoro in quanto lui lavorava come guardia giurata e che però era senza soldi e per poter raggiungere la moglie e la bambina aveva bisogno di circa 248 euro al che io ho preso anche dal buon cuore e anche dallo spavento e dal dispiacere per una bimba deceduta così tragicamente e avendo la certezza che lui mi conoscesse e tra l'altro indicandomi anche il luogo di residenza di Iglesias in Via Roma ecco, io non mi sono messo troppo i problemi gli ho chiesto di comunicarmi immediatamente il codice IBAN o post a pay e così ho provveduto gli ho subito accreditato i 250 euro perché lui potesse partire Come si è accorto che si trattava di una truffa? Mi sono accorto il giorno dopo quando al mattino intorno alle ore 10 mi ha richiamato sempre piangendo, disperato che stava nell'ufficio dell'agenzia funebre per il disbrigo pratiche l'agenzia funebre gli ha comunicato la spesa totale di circa 6.000 euro e al che questo Emanuele mi chiede un ulteriore contributo attraverso un bonifico sempre post pay da lì mi è venuto qualche dubbio e gli ho comunicato che avrei fatto l'impossibile chiusa la chiamata in quanto mi trovavo nel comune di Iglesias proprio in quel momento sono andato all'ufficio anagrafe a verificare la residenza e la presenza di questo Emanuele Russo in via Roma 22 al che nell'ufficio anagrafe risulta completamente assente e non solo al numero 22 c'era un negozio un'attività commerciale Io lancerei un appello a tutti i parroci ma non solo anche a tutte quelle persone soprattutto anziane che potrebbero subire la stessa truffa Sì esatto io invito tutti non soltanto i sacerdoti ma tutti i laici tutte le persone a prestare veramente prudenza a non lasciarsi imbrogliare come il sottoscritto ma ad agire sia a cuore caldo ma a mente fredda perché oggi purtroppo tutti cercano i modi di imbrogliare il prossimo quindi massima prudenza e quando si tratta di casi del genere le persone devono personalmente presentarsi o dal parroco o dalla persona interessata e verificare sempre anche attraverso il servizio d'ordine Sabato prossimo ad Iglesias si svolgerà lo sciopero generale sulla sanità alla manifestazione ha annunciato la sua partecipazione anche l'associazione Amici della Vita che dice fuori i partiti politici dalla sanità sentiamo il servizio La città d'Iglesia si prepara per lo sciopero generale sulla sanità in programma sabato 12 settembre organizzato dal Comitato per la Salute del Sulcis Iglesiente è prevista la partecipazione di associazioni commercianti movimento dei volontari cittadini comuni che sfileranno per le vie della città per dire no alla chiusura di reparti e allo smantellamento dei servizi ma in particolar modo si chiede di scongiurare i tagli che potrebbero essere attuati con l'applicazione della delibera 38-12 sulla riorganizzazione dei servizi L'associazione Amici della Vita annuncia la sua partecipazione alla manifestazione di sabato ma sottolinea con decisione fuori i partiti politici dalla sanità perché ha precisato il presidente dell'associazione Giorgio Madedu tutti i partiti che si sono cimentati nella gestione della sanità sarda e sul citana si sono dimostrati intercambiabili stessi modi stesso obiettivo rispettare il partito di appartenenza la nostra associazione spiega Madedu sarà presente alla manifestazione di sabato perché non intendiamo rassenea la nostra associazione spiega Madedu sarà presente alla manifestazione di sabato perché non intendiamo rassegnarci davanti al crollo dei servizi sanitari la sanità deve recuperare la propria missione amore e cura della vita debole giovedì ed Iglesia si è previsto l'arrivo dell'assessore regionale della sanità Luigi Arru nell'ospedale CTO per vedere lo stato dei lavori ma al di là di questa visita il comitato per la salute del sulcis eclesiente intende rimarcare la propria posizione contro le decisioni che hanno portato allo smantellamento dei servizi con lo sciopero generale occasione di sviluppo persa per il sulcis ancora nessun opera per la messa in sicurezza dello scalo così si è espresso il capogruppo dell'area popolare in consiglio regionale Gianluigi Rubio intervenuto sul porto di Bugerru attraverso un'interrogazione i dettagli nel servizio di Francesca Rius il porto insabbiato di Bugerru è un'infrastruttura che sta impedendo il rilancio dell'economia turistica del sulcis iglesiente Rubio fotografa così il quadro desolante in cui si trova lo specchio d'acqua più importante del territorio con un'interrogazione urgente all'aggiunta sullo scalo per diportisti ancora inutilizzato si tratta di un avamposto evidenzia il capogruppo che potrebbe ospitare sino a 350 posti barca ingessato e bloccato dalla burocrazia e da una valanga di risorse mai arrivate le criticità del porto sono molteplici il sito dice ancora Rubio è caratterizzato da un quasi totale insabbiamento dei fondali e da gravi problemi strutturali per la notevole erosione dei moli una situazione che determina l'inutilizzabilità dello stesso per la maggior parte delle imbarcazioni da pesca e per quelle da diporto sarebbe dunque opportuno procedere con immediatezza alle operazioni di dragaggio dei fondali del porto o al completamento del medesimo intervento ponendo le basi per un rilancio dello scalo nessuna opera è partita per restituire funzionalità allo scalo precisa ancora Rubio per sollecitare gli interventi di ripristino della funzionalità della struttura attraverso il dragaggio si è peraltro provveduto a costituire il comitato un porto senza sabbia che ha manifestato lo stato di degrado dell'infrastruttura in questione con un impianto in grado di garantire conclude Rubio con le opportune opere di messa in sicurezza uno sviluppo turistico per tutto il territorio non vorremmo che anche in seguito allo stanziamento di oltre 7 milioni di euro per gli interventi ci fosse l'ennesima occasione persa circa 200 persone ieri a Carloforte hanno partecipato alla manifestazione per il salvataggio della Saremar in servizio circa 200 persone ieri a Carloforte hanno partecipato alla manifestazione per il salvataggio della Saremar la compagnia di navigazione che collega le isole minori ammessa al concordato preventivo e per la quale si teme il fallimento la mobilitazione è stata promossa dal deputato di Unidos Mauro Pili la Saremar spiega il parlamentare deve essere salvata ad ogni costo per impedire che i pirati del mare mettano le mani anche sulla continuità territoriale per le isole minori sostenere come sta facendo la regione l'impossibilità di mantenere pubblica la continuità territoriale per le isole minori e per la Corsica è semplicemente la strada più facile per svendere le rotte ai signorotti del mare che speculano sulla Sardegna tutto questo deve essere impedito ora più che mai sottolinea Pili alla luce di quante accadute sta accadendo sulle rotte principali della continuità territoriale bisogna intervenire per integrare in senso più garantista le disposizioni in materia una perturbazione linea di confine tra l'aria calda del nord Africa e quella più fresca dal nord determinerà piogge e temporali anche intensi l'apice del maltempo si raggiungerà tra domani e giovedì quando fenomeni anche di forte intensità interesseranno in particolare Sicilia Calabria Lucania e Puglia ma il maltempo raggiungerà anche la Sardegna meridionale seppur in misura minore settembre secondo le tendenze a lungo termine sarà un mese con una piovosità sopra la media e con fenomeni anche intensi la commissione assegnazione premio della bontà Maria Piagiu Assulas ha stabilito di assegnare il 36esimo premio della bontà alla gloriosa brigata Sassari per aver onorato la Sardegna in Italia e l'Italia nel mondo il vescovo della diocesi di Iglesias Giovanni Paolo Zedda ed il sindaco di Carbonia consegneranno il premio durante la cerimonia alla presenza di autorità religiose militari e civili venerdì 18 settembre alle 10 nella sala polifunzionale del comune di Carbonia il nostro OTG termina qui vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni e adesso le previsioni meteo per domani mercoledì 9 settembre pioggia diffusa vento da nord ovest con intensità di 3 km orari raffiche fino a 8 km orari temperature minime comprese tra 17 e 20 gradi e massime comprese tra 22 e 25 gradi grazie a tutti ciao 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 ciao